Noi siamo i soldatini, però spesso gli ufficiali latitano. Sono critiche costruttive quelle che arrivano da Enzo Corso, medico di medicina generale di terre roveresche, che oggi interviene sui vaccini a domicilio per anziani non diambulanti. Infatti, dopo circa tre settimane dall'accordo sindacale tra regione e medici di base, purtroppo si registrano diversi problemi. Nel distretto di Pesaro hanno diritto soltanto al 60%, a Fano circa il 70%, mentre più dell'80% a Urbino. Ciò che ha frenato la decisione di molti dottori è la difficoltà nella gestione del lavoro a partire dal carico burocratico. Sulle loro spalle è ricaduta l'intera organizzazione, dal ritiro dei vaccini a come prepararli e conservarli, dai moduli da compilare fino ai dati da inserire su un sito al termine della giornata, il tutto al di fuori dell'orario di ambulatorio. Dottore, intanto per quale motivo ha deciso di aderire a questo accordo con la Regione? Per un senso di dovere, solo per questo. Per un senso di dovere nei confronti dei miei pazienti più anziani, perché tutto il problema della vaccinazione è stato gestito molto male. C'è stata questa grossa delusione da parte mia anche perché in Giunta, o perlomeno nel Consiglio regionale, c'è anche un medico di famiglia che conosce le problematiche di noi medici. Se la Regione o perlomeno anche lo Stato avessero voluto vaccinare seriamente, potevano disporre di una rete capillare di medici, con il supporto di un infermiere, così si poteva fare moltissimo, fare anche 50-60 vaccinazioni al giorno. Ognuno di noi conosce i propri pazienti. Saremmo potuti andare benissimo. Nel giro di un mese, un mese e mezzo, avremmo vaccinato tutti. Il dottor Corso, che ha ricevuto una fiala di AstraZeneca e una di Moderna, l'altro giorno ha impiegato più di tre ore per somministrare la prima dose a 11 pazienti. Io, fra l'altro, per registrare anche i dati dei pazienti che ho vaccinato, mi aiuterà un medico, il figlio di una mia collega, perché io faccio fatica. Adesso, io già alcuni li ho vaccinati e devo ancora comunicare questi dati. A me, anche se non mi pagano, non me ne importa niente. Io l'ho fatto solo per i miei pazienti. Ci sono alcuni medici, prosegue il dottore, che vivono per il loro lavoro, altri vanno avanti per il senso del dovere o per avere una pensione dignitosa. Poi, ha detto, c'è chi non ne può più di tutti questi carichi burocratici, sono frustrati e per questo non hanno aderito all'iniziativa. Chi è negli uffici non si rende conto di quello che è il nostro lavoro. È inutile che alla gente dicano che i medici non vogliono vaccinare oppure si riempiano di retorica, apriamo i punti vaccinali, eccetera. E allora, cominciamo a organizzare fin da adesso quella che sarà la vaccinazione che dovrà essere fatta in autunno, perché se no in autunno di nuovo siamo con la retorica dei punti vaccinali, eccetera, eccetera. Però dobbiamo garantire decine di milioni di dosi che ci devono essere. Altra cosa fondamentale, prosegue Corso, è capire quanto sia la durata dell'immunità dei vaccini. D'altra parte, noi medici dobbiamo dare il buon esempio, ha dichiarato. Dobbiamo vaccinarci, ma anche vaccinare per un senso del dovere. È una cosa giusta, è una cosa etica, deontologica vaccinare. Però, ripeto, non giustificando, però comprendo le ragioni di chi si è rifiutato. Ecco, e non li demonizzo.